Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sulla probabilità oggi andremo a vedere come trovare la probabilità totale e perché la probabilità totale? Perché finora ci siamo soffermati sul calcolo della probabilità di un singolo evento in una certa situazione. Ora vedremo come si fa a trovare la probabilità totale di più eventi. Quindi, se noi ci poniamo una condizione in cui io voglio sapere la probabilità che avvega un evento oppure l'altro e qui sarà molto importante distinguere tra eventi incompatibili e eventi compatibili come poi abbiamo visto nella lezione precedente. Per capire meglio quello di cui stiamo parlando è il caso di fare un esempio. Quindi consideriamo di nuovo l'estrazione di una carta da un mazzo francese. Io ora invece di considerare un unico evento ne considero due esce una regina rossa oppure esce un numero disperi. Cioè io considero come favorevole l'avvenire dell'uno o dell'altro. Allora la prima considerazione è che questo evento anzi, prima di tutto noi chiameremo questo qui, il primo, esce una regina rossa come l'evento 1, no? E chiameremo questo qui l'evento 2. Quindi io sarò contento, no? Se avverrà o questo o quell'altro. Cominciamo intanto con l'evento esce una regina rossa. Quindi come abbiamo già imparato, no? Andiamo a calcolare la probabilità di questo evento facendo il rapporto tra il numero di casi favorevoli sul numero di casi possibili. Il numero di casi possibili sappiamo che il numero delle carte nel mazzo francese sono 52. Quante sono le regine rosse? Sono due la regina di cuore e la regina di quadri. Quindi la mia probabilità per il primo evento è 2. E per ora non lo semplifico perché per un motivo lo vedremo tra poco. Andiamo a vedere il secondo caso. Esce un numero dispari. Ok? A questo punto mi devo pensare, ok, quanti sono i numeri dispari? Abbiamo l'asso, cioè l'1, 3, 5, 7 e 9. Quindi abbiamo 5 numeri dispari per ciascun seme. Quindi i semi sono 4, quindi 5 per 4 è 20. Quindi probabilità dell'evento 2 è 20 su 52. Ora però io dico che sono contento sia se succede questo sia se succede quest'altro e dobbiamo osservare a questo punto che questi due eventi, quindi E1 e E2 sono incompatibili, cioè non possono avvenire in contemporanea. Cioè non ci può essere un caso in cui tutti i due sono soddisfatti. Allora in realtà questo è un caso che mi semplifica la vita nel calcolare la probabilità totale perché posso dire semplicemente che la probabilità dell'evento E, quello che chiamerò l'evento totale, l'evento totale, non sarà altro che la somma di queste due probabilità, cioè la probabilità dell'evento esce una regina rossa oppure esce un numero dispari, non è altro che la somma della probabilità dei singoli eventi incompatibili. E questo è importante, e questo può succedere se questi due eventi sono incompatibili. E quindi svolgendo i miei conti viene fuori che è 2 su 52 più 20 su 52, ovvero 22 su 52 che poi posso semplificare dividendo per 2 entrambi i termini e viene 11 su 26. E questa è la mia probabilità di questo evento totale. Facciamo un altro esempio. L'altro sistema che abbiamo usato finora in questa lezione della probabilità è il dado da gioco. Quindi consideriamo di nuovo un evento totale dato da due eventi separati. In questo caso esce il 2 oppure esce un numero dispari. E procediamo molto velocemente come abbiamo fatto nell'esempio precedente. Quindi questo è l'evento numero 1, questo è l'evento numero 2. La probabilità che esca il 2 è un unico caso favorevole sui 6 disponibili nel dado. Invece riguardo al secondo evento, ovvero esce un numero dispari, abbiamo tre numeri dispari, 1, 3 e 5, quindi 3 su 6. Di nuovo non semplifico perché mi fa comodo per i passaggi successivi. Di nuovo l'evento totale cosa sarà dato? Sarà data la somma di questi due perché? Perché sono di nuovo incompatibili. Cioè essendo il 2 numero pari o esce un numero pari o esce un numero dispari. Quindi di nuovo la probabilità dell'evento totale ovvero esce il 2 oppure esce un numero dispari sarà data dalla somma della probabilità dei singoli eventi. Quindi in questo caso, di nuovo procediamo molto velocemente con la nostra somma, non è altro che un sesto più tre sesti, ovvero quattro sesti, ovvero semplificando numeratore e denominatore cioè di semplificando per 2 viene due terzi. riassumiamo quindi quello che abbiamo visto finora. Quindi come si trova la probabilità totale di due eventi incompatibili? Piccola parentesi, noi stiamo facendo il caso di due eventi, ma è chiaro che quello che stiamo dicendo ora per due eventi si potrà generalizzare nel caso di 3, 4, 5, quante volete, eventi incompatibili. E cosa possiamo dire? Che la probabilità totale di un evento costituito da due eventi incompatibili è pari alla somma della probabilità dei singoli eventi. Quindi usando di nuovo la scrittura che abbiamo utilizzato nei due esempi di prima, possiamo dire che la probabilità dell'evento E, evento totale, è dato dalla somma della probabilità del primo evento, chiameremo E1, più la probabilità del secondo evento, proprio perché questi due eventi sono incompatibili, non si vanno a sovrapporre. Le cose si fanno più interessanti se invece abbiamo degli eventi compatibili tra di loro. Quindi consideriamo questo secondo caso con le nostre carte. Esce una regina rossa oppure esce una figura di cuori. A questo punto noi facciamo i soliti calcoli di prima, quindi andiamo a vedere la probabilità che esce una regina rossa, l'avevamo già trovato prima, quindi era uguale a 2 su 52, no? Le due regine rosse sul totale delle 52 carte da gioco. Le figure di cuori, ecco voi vi ricordate che esistono tre figure, no? Re, regina e Jack o Fante, a seconda come le vogliate chiamare. Quindi ho 3 su 52 e chiaramente quando parlo di E2 mi riferisco a questo qui. Per ora dobbiamo stare attenti perché qui c'è una sovrapposizione, ovvero c'è un caso che soddisfa entrambi i criteri, in particolare se esce una regina di cuori, perché una regina di cuori è una figura di cuori, ma allo stesso tempo è una regina rossa. Quindi se io facessi semplicemente la somma di queste due probabilità, in realtà varerei perché conterei due volte l'uscita della regina di cuori. Quindi io devo sottrarre una volta questa probabilità. Quindi se io vado a vedere il calcolo della probabilità totale di questo evento, faccio sì la somma del primo evento con il secondo, ma devo anche togliere quell'eventualità che si va a sovrapporre, ovvero l'uscita di una regina di cuori. E quindi 3 più 2 fa 5, meno 1 fa 4 su 52, che posso semplificare ovvero viene 1 su 13. Per capire ancora meglio andiamo a vedere il caso di nuovo dato da gioco. E consideriamo questi due eventi. Esce un multiplo di 3, esce un numero dispari. Come nell'ultimo esempio, anche questi sono eventi compatibili, cioè c'è la possibilità che ci sia un evento che soddisfia entrambi. Quindi andiamo a vedere una rappresentazione diversa. Andiamo a fare un diagramma di Euler-Oven di tutti i casi possibili. Quindi quali sono i casi possibili con un dato da gioco? Abbiamo il numero 1, abbiamo il numero 2, abbiamo il numero 3, abbiamo il numero 4, abbiamo il numero 5 e abbiamo il numero 6. Questo rappresenta l'insieme di tutti i casi possibili. Va bene? Cosa significa esce un multiplo di 3? Significa esce o il 3 o il 6 e quindi io rappresento il sottoinsieme che costituisce il mio evento 1. Cos'è l'evento 2? Esce un numero dispari. Esce un numero dispari è questo sottoinsieme e qui, ora mi sono un po' complicato la vita, e la cosa importante è che questi due sottoinsiemi hanno un'intersezione non nulla rappresentata dal numero 3. è chiaro che la probabilità sarà probabilità caratterizzata dall'insieme unione, ma devo stare attento appunto a non contare due volte l'intersezione tra E1 e E2, non devo contare due volte il fatto che venga fuori un 3. Quindi, quando io vado a calcolare la probabilità dell'evento totale, devo sì mettere la probabilità che esco un multiplo di 3, cioè 2 su 6, più la probabilità che esca un numero dispari, cioè 3 numeri su 6, ma devo anche togliere quel caso in più, che se no conterei due volte, della probabilità che esca il 3. Quindi, come prima, 2 più 3 fa 5, meno 1 fa 4, quindi 4 su 6, ovvero 2 su 3. Riassumiamo quindi quello che abbiamo scoperto riguardo alla probabilità totale di due eventi compatibili. La probabilità totale di un evento costituito da due eventi compatibili, di nuovo, si può generalizzare al caso di più di due eventi compatibili, ma per ora ci limitiamo a questi, è pari alla somma dei singoli eventi, meno la probabilità dell'evento intersezione. Come rappresentiamo questo in linguaggio matematico? Questo è molto interessante. Scriveremo quindi che la probabilità dell'evento totale E sarà uguale alla probabilità dell'evento 1 più la probabilità dell'evento 2 meno, ecco questa è la differenza rispetto al caso degli eventi incompatibili, la probabilità dell'evento intersezione. Vi ricordo del nostro studio dell'insemistica, il simbolo di intersezione, questa U rovesciata, la cosa interessante è che in realtà questa è la formula più generale, perché? Perché se noi andiamo a considerare eventi incompatibili, sono eventi la cui intersezione è nulla, quindi la formula che abbiamo visto prima per gli eventi incompatibili si può ricavare comunque da questa perché questo termine qui diventa zero. Nelle prossime lezioni andremo a vedere a questo punto la cosiddetta probabilità condizionata, che è un ulteriore avanzamento del nostro studio di probabilità, ma per oggi è tutto, arrivederci da Mr. Poscherini.